Allora, questo emendamento è la risposta a quello che è stato annunciato. Tutto nasce dalle parole del Premier Renzi che ha detto aboliremo il Senato. Le prime parole che ha pronunciato sono state queste. Superiamo il bicameralismo, aboliremo il Senato. L'abolizione del Senato, adesso votatela. Dimostriamo chi vuol mantenere le poltrone. Noi voteremo per l'abolizione del Senato. Dichiaro aperta la votazione, 1.1555. Si sta votando. Prego. Dichiaro chiusa la votazione. Mi dispiace, il Senato non approva.